Ma sicuramente è una grande sofferenza, un grande dolore per tutti ritornare alla situazione dello scorso anno e francamente fino penso a metà della settimana scorsa nessuno di noi lo pensava, neanche noi operatori della scuola gli alunni che sono rimasti a casa sono veramente pochi in questi sei mesi, diciamo così le misure prese sono efficaci Come scuola abbiamo scritto anche noi una nostra forma non di protesta ma di richiesta al Presidente della Regione affinché non chiudesse le scuole del primo ciclo, la speranza è che veramente questi 15 giorni siano solo 15 giorni e che si ritorni assolutamente in presenza, la presenza è assolutamente importante La scuola dietro al computer non è scuola, la scuola si fa in presenza, è relazione, è rapporto, è esperienza Un video può dare grandi informazioni, grandi nozioni ma sappiamo che con le nozioni non si apprende Oltre al fatto che i nostri ragazzi si trovano proprio un po' privati della relazione che è importante per crescere Per confrontarsi e per diventare uomini e donne maturi e consapevoli Grazie a tutti